L'ho visto, c'è il giorno di unica che vuole fare un'altra domanda, unica sciata. No, signor Romagna, senza riservi che c'è il cadale di inflazione 4, noi cosa siamo? No, cosa pensi? Cosa pensi? Cosa neanche? Cosa pensi? Cosa pensi? Cosa pensi? Cosa pensi? No, 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 no. Perchè il piccol'nale, evidentemente, quello di poter, poter dare, trovare i consumi per questo, altri consigli, trovati i numeri, i numeri, per poter continuare a raccontare, a radiciare questa situazione, che non sa che non c'è parla. La sp machinesi. Perché, guarda, evidente che noi oggi abbiamo di ingesta, di ingestinare, interno rispetto all'inizio, una vera intuizione del tempo, del tempo, non ci possiamo permettere di dire che è il tempo, perché in qualche modo è una cosa che ci sedisce la legge, ma che dovrebbe impedirci la nostra ragione politica. Dobbiamo poter un limite alla questione umanistica, per le ragioni che ho detto prima, noi dobbiamo evitare che si consumino nuove interiore organizzazioni del territorio, dobbiamo rilanciare le strutture produttive, ma dovete che noi pensiamo che possano realmente mantenere sul territorio. Donato si tratta di una politica giovanile sociale che tenne a conto di tassi delle spese. E quindi, se non vanno per il governo centrale di Tassia, noi non possiamo continuare a prendere il fondo, perché ovviamente la prima fondamenta è l'accesso di modo di servizio, perché non avanti per questo denuncio. Allora, se non vanno per il governo centrale, e diciamo basta, cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare bene questa parte a tutte le forze politiche che in questo programma, questa è l'idea della città, ne vogliono davvero fare un progetto stesso in Italia. e iniziare a lavorare affinché anche questa previsionazione possa essere iniziata questa situazione. Questo è quello che deve fare. Ma quindi adesso dice wonderful che le opposizioni! Oppure, questo canale allo 지금, noi siamo a proposizioni dal terreno akbotatuaipo, dopo la buonaneria di calci corespositinio, io ho anche tutte cose duale, abbiamo anche powerspositinio, ed è ora ugualdade nel chiudiamo a noi. Li abbiamo pieno納are la posizione, dove occuverà la posizione quelli che non إasst nominamento? Quindi io non conosco anche cos'è da obbligare una scelta diversa. C'era una scelta diversa cosa. Ma io non ho mai detto a tenere la nostra scelta. Ho detto a tenere la nostra scelta diversamente. E poi, ecco l'opposizione. Però non è detto che è possibile creare una scelta. Quindi questo è detto, la nostra è un'opposizione che ovviamente è un'opposizione di un partito che è un partito che vuole poter fare. Ovviamente qui c'è il loro. Qui c'è un appello evidente che è fatto su Don Cana. Anche perché noi, con l'appoglio del, diciamo, spettere, non l'abbiamo mai avuto. Io non voglio dire. Grazie.